e ciao a tutti ragazzi io non so il mio nome oggi siamo tornati su battle talent finalmente ho capito come usare questi che questo è delle cinetiche li devo mettere nel guanto e non so poi cosa devo fare però preferisco sempre metterlo nella mano destra perché oh mio dio non non No, no. Non è un peso! Ah. Perliamo a me! Perete il tuo insolso! Il stupido tratello! Tu. Tu, 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 tu. che poterietta carica l'arma figo, figo, aspetta, aspetta E' proprio bella sta roba ce l'ho scoperto ora che lo devo indossare merenda devo... che volevi? guarda come voleva ah no, tante armi, ti spiego che morirebbe frigo che cazzo è morto? cioè, quello non è rotto no non la può essere... non la posso realizzare verso lì sono morto, vabbè che ci posso fare comunque dovrò perché wow ho capito come si fa da una figata cioè posso fare tipo posso essere 11, posso essere anche Dragon Ball con il cameraman e con questo posso fare questo io lo uso e non lo uso però perché sarebbe un po' inutile e tipo faccio tipo tipo così cos'è? ah! ho capito! praticamente uccidendo quella linea blu della mia vita prima quello praticamente ora io lo sto recuperando figo e ci posso fare questa roba fighissimo ora eh, sono 0 ora mi si ricorda tipo di quanto di quattordi di ventuno ah no di quattordici ogni ogni uccisione tipo e tipo di 7 e io ho 8 ogni cosa e io ho 8 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 ora aia e io ho 9 e io ho 14 e io ho 13 quanto show mini ha Oh wow wow, prendilo, prendilo, mi serve, è tipo, no, vabbè, vieni, vieni, spacco la faccia, c'è lo spacco, c'è lo stritolo, te la, non riesco, mi, mi, ah, i miei poveri occhi stanno, devo sbatterli ma non riesco perché c'è tipo, oh, 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 questo è il mio occhio, no? E tipo il visore fa tipo così e quindi mi tipo non riesco, non mi fa sbattere l'occhio, no, 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 questo, secondo me è così, però va bene, quanto c'ho? Oh wow, oh wow, oh wow. Oh wow, oh wow, oh wow. fa male eh? non credi? ahia, ahia una spada nell'occhio e ora tu pagherà facco la faccio come lo dici un po' un po' un po' un po' e? come tin? un po' mi guarda c'è dimmi quanto c'è in fretta dimmi quanto c'è in fretta come oggi e mi sa che oggi ah c'è una bomba Sì, è vero. oh mio dio sembrava rapito da te no comunque che figo non lo sapevo adesso provo a fare perché io dio mi ricordo che c'era il labirinto qui questo no vabbè provo a fare questo questo qua ok dopo se me provo anche a fare questo no non il parkour però ora devo fare questo però per fare quello devo battere la tomba delle cose due per un attimo ho pensato ho fatto una cavolata e l'ho fatta perché ci mette sempre due anni a caricare sto livello yey come l'ho detto wow è stato più veloce del pre visto non mi dai un qualche cosa no io mi ci trovo molto bene c'è questa è un'arma che nello scorso video ho trovato così tanto tempo oh ma è stata più veloce del pre mi sa che ci mette male un po' oh oh ah 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 quello cos'è vediamo oh no una arancia eh questo è comodo si 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 cos'è si quanto è soddisfacente ah e ti lascerò a crepare qua oh 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 fa un culio ah la posso levare? no però mi leva la spalla se ci le provo eh oh 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 si però allora bello questo questo come li tocchi? appunto fanno saltare tutti in aria cioè tipo ti fa male ti fa male un po' per te dimmi se ti vuoi ah quanto è bello giocare a questo gioco comunque credo che ora oggi vediamo questo video e ne farò un altro di gorilla tanto che poi ci vorrò pubblicherò domani e tu sono leale non tanto oh no è in cooldown sbrigati 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 eh vabbè guarda guarda che schifo che sei ti ricavo gli occhi no e invece no infatti non l'ho fatto però ti ho cavato cioè qua c'è il bello che non l'avevi eh però qua c'è una cosa 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 questo indicami fammi sapere cos'è o medicina che è eh e ma non fai niente questo con questo gioco gli occhi ah te l'ha chiesto qualcuno te l'ha chiesto qualcuno te l'ha chiesto qualcuno eh no già si in verità mi serve però vabbè mi serve un po' di vita certo quindi dammeli ah vedi qua ah mi sono ok no mio dio stavo per premere il tasto per la plus men guarda guarda cosa c'è e guarda cosa c'è ma fai fai sf gublin ah du goblin I'm a goblin, I'm a goblin, I'm a goblin Tu non sei un goblin Ti riconosco i miei Dio mio Che spariscono, ah qua Cioè tipo Porca trottola No dai mi ha levato la vita Dai guarda mi ha levato la vita Ma che sta facendo Infatti torna lì dietro Che me l'ho fatta fare Da dove ci sono i goblin Perché non ci sono le schemi Va bene tutto È giusto tutto Tanto a me non sono facili Dovete vedere Ah ne ho usato un'altra quindi non serve Ah qua ci posso poter inserirmi niente Qua Sì 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 Cos'è No Ah questo potrebbe servirmi Però anche questo Non è inutile diciamo Allora posso mettere nel back Va bene me lo tengo qua Come amichetto Porca ciuta E qua ho capito Deve lo sa subito Deve lo sa Vieni qua Ti Ti Consiglio Tu masso Sono forte Sono gigasciardo Ora Un po' gigasciardo Non so se oggi uscirà Ah ho fatto uscire adesso il video Di battle talent In cui su sto robo mi sentivo Uno skylanders Uno skylanders Uno skylanders E' più inutile se poco Beh sto filiendo Ah Non so Venendo da qui Vediamo di qua Se c'è qualcosa Sì c'era questo Eee Magari no Eee Sento qua Qua c'è qua? Ah Ma che c'è qua? Sei down? Questo mi sa che recupera Ah si Eee Quel coso blu Quella casa rossa recupera la vita No 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 Viene 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 Che idea Alice Se ne vede C'è Niente, li faccio vedere. Allora, ora che ci stanno in mezzo i... ...sono propri... Ma non ti ho nemmeno toccato! No, non ti ho nemmeno toccato! Eh, volevi! Però mi conviene... Miau! ... 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 oh ne avevo visti venite qua allora io venga qui io non è per niente io sono non so il mio nome io non so il mio nome e comunque fatto sta faccio l'ultimo 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 passo perché credo che è durato tantissimo allora 11 pronto posso essere 11 posso essere non mi ricordo come si tangiro e posso essere una merda non mi ricordo come si è durato 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 non so se mi è partita l'unghia o mi è partito il controller o mi è partito il nuovo mi è partito in tutte le cose potrei dire che mi è giusto ti piace vedere i tuoi compagni ti soffrire ti distraverà e poi quando meno te ne metti colpino e ti farò soffrire 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 non soffrire soffrire perché soffrire non volevo soffrire eh c'ho il visore scarico porca vacca ah ah sì ora devo andare bomba tu non lo farai però è veramente figa sta funzionante è tipo, veramente e io, io, io ho lo scorso in bietta credo che volevo avere quella parola credevo volesse dire tipo tasca era, chi se l'aspettava che fosse guanto voi me l'aspettavate? non credo non sia di qua cioè posso essere un uomo veramente oddio non so io che ti metto in realtà sì però mamma è freddo chi chi di chi 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 di chi il cocodè bene ragazzi dopo che stavo per tirare giustanti direi che il video possa finire qui e con un salto io concludo il video concludo il video concluso addio